Buongiorno a tutti, allora, oggi andiamo a spiegare qualcosa di una storia, di una macchina, di un forgoncino. Allora, come vediamo sui vari libri, e dietro alle mie spalle c'è un'immagine, come potete vedere, è stata messa apposta dal nostro direttore. E... penso che siamo anche tutti presenti, no? Allora, questa è la storia di questo forgoncino qui. Come si chiama questo forgoncino? Nessuno lo sa? Bene, ve lo dirò io. Si chiama Troc. All'epoca, era un forgoncino che andava di moda, negli anni sessanta.